Papai, papai Mauro, si aspetti c'è più gusto Mauro, non ti scordare di me Mauro, c'è sempre quello giusto Mauro, gradisci un buon caffè Mauro, si aspetti c'è più gusto Mauro, non ti scordare di me Mauro, c'è sempre quello giusto Mauro, gradisci un buon caffè Papai, papai Quando il mondo ti sembra stonato E non è come lo canti tu Quando quello che puoi l'hai già dato E non sai cosa avere di più Se anche il tempo ti scorda Appuntamento dunque questa sera Dalle 20 le prepartite a Sky Sport Un'azio di Finzone in supercaccio Stati Uniti 2 Brasile Niente Lì nella regia Poi torniamo Caffè Mauro a tostatura lenta Si aspetti, c'è più gusto Grande squadra della Spagna Adesso però deve arrivare terza Deve segnare in questo secondo tempo Che comincia Papai, papai Mentre corri rincorri la vita E non hai tempo neanche per te Senza neanche una meta precisa E ti chiedi per cosa e perché Anche il cuore non solo in amore Ti chiede rallenta almeno per me Io che batto e ribatto il tuo tempo Se perdi un momento che male ti fa Dai Mauro Si aspetti, c'è più gusto Mauro Non ti scordar di me Mauro C'è sempre quello giusto Mauro Gradisci un buon caffè Mauro Si aspetti, c'è più gusto Mauro Non ti scordar di me Mauro C'è sempre quello giusto Mauro Gradisci un buon caffè Papai Papai Quando il mondo ti sembra stonato E non è come lo canti tu Quando quello che puoi l'hai già dato E non sai cosa avere di più Se anche il tempo ti sembra annoiato E non sai proprio cosa voleretti più Forse pensi che il mondo è cambiato Quello che ti piaceva non c'è più Mauro Si aspetti, c'è più gusto Mauro Non ti scordar di me Mauro C'è sempre quello giusto RPL 125 RPL 125 Per un caffè buono come quello del bar C'è Macchi La piccola e elegante macchina per espresso firmata Caffè Mauro Oh, allora con Maki potete gustare un espresso semplicemente più buono, anche quando siete a casa o in ufficio Caffè Mauro è in quattro miscele, 100% arabica con poca caffeina, per il piacere del caffè anche in orari notturni Allora, deluxe, il sapore equilibrato per ogni occasione, classica, ottimo al risveglio e decaffeinata Perché sei troppo nervosa Allora, Maki di Caffè Mauro vi dà tutto questo in un espresso, come quello del bar, infocaffemauro.com e 800-88-0029 Radio On Air Con la macchina per espresso Maki, il gusto di Caffè Mauro è proprio come al bar Vai su caffemauro.com Mentre corri rincorri la vita e non hai tempo neanche per te Senza neanche una meta precisa e ti chiedi per cosa e perché Anche il cuore non solo in amore ti chiede rallenta almeno per me Io che batto e ribatto il tuo tempo se perdi un momento che male ti fa Dai Mauro, si aspetti c'è più gusto Mauro, non ti scordare di me Mauro, c'è sempre quello giusto Mauro, gradisci un buon caffè Caffè Mauro a tostatura lenta Si aspetti, c'è più gusto Mauro, non ti scordare di me Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti